Ti ricordi Martina, la mia collega? Certo Martina, ci siamo andati anche a cena insieme, me la ricordo sì. L'altra sera quando è tornata a casa il marito le ha fatto trovare una cena meravigliosa, al lume di candela, già pronta. Eh, ma si vede che lui è uno che ci pensa a queste cose, eh? E te? Ma io me la cavo in cucina, dai, eh? E te? Qual è stata l'ultima volta che mi hai fatto una sorpresa? Quando mi sono presentato al matrimonio, non te l'aspettavi, eh? Allora, io stasera quando torno, pretendo che tu mi sorprenda. Mi devi fare una sorpresa, qualcosa che io assolutamente non mi aspetto. Chi è? Sono io e non mi entra la chiave nella toppa della porta. Eh, per forza, ho cambiato la serratura. Come l'hai cambiata? Perché? Scusa, è te stamani, quando sei uscita di casa, che mi hai chiesto? Che ti ho chiesto stamani? Di farmi una sorpresa. Sorpresa! Ciao!